Il Cipia ha deliberato di assegnare all'Abruzzo fondi per 7 milioni di euro che saranno destinati a finanziare 11 progetti sul territorio regionale, la gran parte dei quali riguardanti l'edilizia scolastica. E quanto ha annunciato questa mattina Pescara il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso. Tra gli interventi principali la realizzazione a Montesilvano della palestra del liceo scientifico per un importo di 1.400.000 euro. Stessa cifra più o meno a Pescara per la realizzazione della palestra del liceo scientifico Galilei. A Fossacesi invece è finanziato il completamento del risanamento idrogeologico dell'area dell'abbazia di San Giovanni in Venere per 500.000 euro. Alla regione invece sono stati assegnati 600.000 euro per l'implementazione del progetto per la realizzazione della piattaforma telematicati acquisto. In questo caso c'è stata una provincia non interessata dal terremoto che è la provincia di Pescara, io direi grazie a Dio, che aveva dei problemi di copertura finanziaria dell'edilizia scolastica e abbiamo fatto segno su tre importanti risultati, gol. E poi abbiamo messo a segno altre risorse per una serie di comuni che stiamo rilevando nel dettaglio, per esempio un contributo straordinario per esigenze di edilizia scolastica a Roccaraso. E poi investimenti nei singoli comuni. Abbiamo fatto noi richiesta per quanto riguarda Caramanico Termi, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Tollo, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Arielli, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Cerchio, abbiamo avuto risorse su tutti i fronti. Il presidente D'Alfonso ha anche colto l'occasione per fare un intervento puntuale rispetto alla vicenda del gasdotto SNAM in Valle Peligna. Queste le azioni che verranno messe in campo da parte di Regione Abruzzo. Si è pervenuti alla competenza del Consiglio dei Ministri in ragione dei dinieghi deliberati da Regione Abruzzo. Io opererò su due fronti, sia sul fronte del TAR, con questa Costituzione, attraverso il meglio della professionalità nazionale, e poi opererò anche dal punto di vista politico ed istituzionale. Ripercorro la strada che ho seguito per quanto riguarda il no a Ombrina di Ferro.